Ciao, sono Jessica Resteghini, ho 35 anni, sono un'attrice e ho avuto il cancro. Questa è la mia storia. Ciao a tutte, sono in macchina, è domenica e non potrete mai immaginare dove sto andando. Allo Sporting Club di Milano 2. Vediamo un po', sono vestita tutta un po' sportiva. Dobbiamo salire queste scale. Sperbacolo, adesso vi racconto tutto. Dunque, vi ho appena fatto vedere il biglietto da visita di Stefano De Veteris, col quale parleremo sicuramente dopo. Un pacco di persone, persone che hanno deciso di aiutare facendo delle donazioni in questo evento. Questo evento che cos'è? Un evento sportivo, ovviamente, che fa molto bene per noi che abbiamo avuto il cancro. Mi raccomando, non bisogna mai mollare, mai mollare l'esercizio fisico. E poi ce ne parlerà anche molto bene Stefano dopo. Siete pronte? Sentite la musica, non vi carica? Ciao, ciao! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Ciao, 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 ciao! Allora, buonassun 5 minuti a questo evento. L'allenamento è inesistibile. Io sono Stefano De Veteris. Oggi siamo qui allo Sporting, non solo per allenarci, ma soprattutto per mandare un messaggio molto importante per la prevenzione. Quindi siamo qui a fare questo evento a sostegno della Fondazione De Veteris per il progetto Pink is Good. Qui abbiamo Roberta Giammara che è il pink ambassador della Fondazione. Ciao, ciao! Sono contenta grazie alla voi della vostra partecipazione prima di tutto. Il progetto Pink is Good, sostegno di Fondazione De Veteris, sostiene la ricerca. L'obiettivo è finanziare nuose di studio a giovani medici ricercatori per trovare nuove terapie per combattere tutti i tumori femminili e non solo. Io oggi sono contenta di essere qua e dare la mia testimonianza a nome mio e a nome delle mie compagnie che nonostante la malattia può tornare a vivere in forma di prima e questo è il messaggio dell'unico. Fare attività fisica perché abbatte il rischio di ammalarsi di tumore e anche per chi ha vissuto il tumore, il cambio, riduce il rischio di riammalarsi. Naturalmente adeguata una buona ambientazione, uno stile di vita, quindi questo è il messaggio dell'unico. Ok, grazie. Dobbiamo cominciare ad allenarci. Abbiamo alle scambra i nostri caratteristiche comunitari, quindi prende le maniglie. Lo spazio di dare che ci serve è esattamente questo. Proviamo a portare i tuoi di qui, ok? Proviamo a spettare le braccia. Se volete aumentare la difficoltà, dimanicate le gambe con i ginocchi a flesse. Al centro dei piedi. DJ, se ci sei, scaccia play. Sì, scaccia play. Sì, scaccia play. Sì, scaccia play. Grazie a tutti. Così, scaccia play. Sono bello, scaccia play. Produzioni, scaccia play. Sì, scaccia play. Dobbiamo con i nostri caratteristiche. Sì, scaccia? Sì. Va bene, l'altro. Ci spazio di un'ambiente. eine 1 2 3 4 4 10 11 12 14 15 15 15 16 16 17 19 19 20 20 21 21 22 22 Sì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti